Il fascismo italiano ha una storia complessa e controversa. Prendendo avvio alla fine del 1914, quando il giornalista Benito Mussolini fondò il Movimento dei Fasci d'Azione Rivoluzionaria, il fascismo si sviluppò rapidamente. Ecco alcuni punti chiave, nascita del fascismo nel periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale. L'Italia affrontò una grave crisi economica e sociale il movimento fascista, fondato da Mussolini il 23 marzo 1919, emerse in questo contesto. Il biennio rosso e impresa di fiume furono eventi significativi durante questo periodo. Marcia su Roma e l'arrivo al potere Nel 1922, Mussolini guidò la marcia su Roma, che portò alla sua ascesa al potere. Il 31 ottobre 1922, Mussolini fu nominato primo ministro e iniziò il ventennio fascista trasformazione in dittatura all'omicidio di Matteotti. Le leggi fascistissime e la rivalutazione della lira furono momenti cruciali. La politica estera. I rapporti con la Chiesa Cattolica e le riforme economiche caratterizzarono il periodo l'impero fascista durante. Gli anni 30. L'Italia si espanse in Etiopia e si alleò con l'asterisco Germania nazista, l'antisemitismo e le leggi razziali. Furono introdotte seconda guerra mondiale. L'Italia entrò in guerra nel 1940 la caduta del fascismo. L'armistizio e la resistenza portarono alla nascita della Repubblica Italiana in breve. Il fascismo italiano fu un periodo complesso e controverso. Nella storia del paese. Benito Mussolini e il fascismo rappresentano un periodo cruciale nella storia italiana e mondiale. Mussolini, nato il 29 luglio 1883 a Predappio, è stata una figura controversa che ha lasciato un'impronta indelebile sul ventesimo secolo. Ascesa di Mussolini e il fascismo Mussolini iniziò la sua carriera politica come socialista, dirigendo il giornale Il Lavanti. Tuttavia, le sue idee cambiarono drasticamente durante la Prima Guerra Mondiale, quando si schierò a favore dell'intervento italiano nel conflitto. Questo cambio di rotta lo portò ad essere espulso dal Partito Socialista e a fondare il suo giornale, Il Popolo d'Italia, che divenne un punto di riferimento per le sue idee nazionaliste e interventiste nel marzo 1919. Mussolini fondò i fasci italiani di combattimento, che attrassero principalmente nazionalisti e veterani di guerra. Il movimento fascista si caratterizzava per le sue posizioni nazionaliste, repubblicane, anticlericali e per la sua forte opposizione al socialismo. Nonostante un inizio poco promettente alle urne, il fascismo guadagnò terreno grazie all'instabilità post-bellica e alle agitazioni sociali, che fornirono l'opportunità di aumentare il proprio consenso la marcia su Roma e il consolidamento del potere. Il punto di svolta per il fascismo fu la marcia su Roma del 1922, che portò alla nomina di Mussolini come primo ministro d'Italia. Da quel momento, iniziò un processo di consolidamento del potere che culminò con l'instaurazione di una dittatura. Mussolini e i suoi seguaci utilizzarono la violenza e l'intimidazione per sopprimere l'opposizione, mentre la propaganda e il controllo dei media furono impiegati per costruire un culto della personalità attorno al dulce politiche interne ed esterne sul fronte interno. Il regime fascista cercò di modernizzare l'Italia attraverso una serie di riforme economiche e sociali, ma anche attraverso la repressione di qualsiasi forma di dissenso. La politica estera di Mussolini fu caratterizzata da un'aggressiva espansione imperialista, culminata con l'invasione dell'Etiopia nel 1935 e l'alleanza con la Germania nazista. Il declino e la caduta alla Seconda Guerra Mondiale segnò l'inizio della fine per il regime fascista. L'Italia subì numerose sconfitte e, nel 1943, Mussolini fu deposto e arrestato. Dopo un breve periodo in cui tentò di ristabilire il suo potere nella Repubblica Sociale Italiana, fu catturato e giustiziato dai partigiani nel 1914-1951. L'eredità del fascismo L'eredità del fascismo è ancora oggetto di dibattito. Da un lato, ci sono coloro che vedono i Mussolini il leader che ha tentato di rinnovare l'Italia. Dall'altro ci sono quelli che lo condannano per le sue politiche oppressive e per il suo ruolo nell'instaurazione di un regime totalitario che ha portato il paese alla rovina durante la Seconda Guerra Mondiale in conclusione. La storia di Mussolini e del fascismo è un monito sui pericoli del totalitarismo e sull'importanza della democrazia e del rispetto dei diritti umani. È un capitolo della storia che non deve essere dimenticato. Affinché gli errori del passato non vengano ripetuti punto la discussione sugli aspetti positivi del regime fascista, è complessa e controversa. Durante il ventennio fascista, ci furono alcune iniziative che possono essere viste in una luce positiva, ma è importante considerarle nel contesto più ampio delle politiche oppressive e totalitarie del regime. Iniziative sociali ed economiche. Politiche sociali. Il fascismo ha introdotto alcuni programmi di assistenza sociale, come gli assegni familiari. Bonifiche. Furono promosse opere di bonifica per aumentare la produzione agricola e combattere la malaria modernizzazione. E infrastrutture. Infrastrutture. Il regime investì nella costruzione di infrastrutture, come strade ed edifici pubblici tecnologia. Vi fu un certo grado di modernizzazione grazie ai progressi tecnologici, cultura e scienza. Scienza. Personalità come Enrico Fermi e Guglielmo Marconi operarono in Italia durante il periodo fascista. Cultura. Figure come Luigi Pirandello e Concetto Marchesi contribuirono al panorama culturale italiano tuttavia. È fondamentale sottolineare che questi aspetti non devono oscurare le gravi violazioni dei diritti umani, la soppressione delle libertà civili e politiche aggressive che hanno caratterizzato il regime fascista. La valutazione di qualsiasi aspetto positivo deve essere bilanciata con la consapevolezza degli impatti negativi e delle sofferenze causate dal fascismo in Italia e nel mondo. Grazie a tutti.